cari utenti di youtube ben ritrovati in questo nuovo video oggi è il 6 febbraio 2019 e ho fatto alcuni video già con la videocamera che ho avuto qualche problemino ma soprattutto non ho potuto caricarli perché ho un problema con il lettore della scheda sd di memoria e chiaramente se non riesco a travasare qualunque cosa dalla sd al pc non è una cosa positiva per i video adesso vediamo se riesco a risolvere la situazione con i driver lo so non c'è bisogno che proverò quello che c'è da provare però nel caso non si risolva l'unica soluzione a parte cambiare il calcolatore che non posso assolutamente permettermelo sarà quello di quella di cercare uno di quei lettori per schede sd da inserire nella in una porta usb anche se ho già le porte usb stracariche è l'unica alternativa se non riesco a farla ripartire comunque il lato positivo è che questo genere di video qui vanno direttamente su disco rigido per cui posso farne quanti ne voglio in poche parole non c'è bisogno di travasare niente e sono anche parecchio leggeri visto che non ci sono immagini ma immagine statica e audio oggi volevo porre all'attenzione degli iscritti di youtube una figura storica che sono certo in ben pochi conosceranno io ho utilizzato un epiteto con cui fu definito questo personaggio storico e cioè questo anche nel nel canale stesso e cioè letto con pronuncia restituta ricostruita classica e non ecclesiastica tocca sempre sottolinearlo perché purtroppo nei licei italiani si insegna l'ecclesiastica appunto e non si rende pensano che la pronuncia chichero sia un una specie di snobbismo tedesco o inglese ma non è così non è così era il latino è nel liceo italiano e purtroppo solo in italia che si utilizza la pronuncia ecclesiastica quindi fatevene una ragione una volta per tutte l'epiteto è l'uomo con aspirazione sull'h inghenio animo manu liber e cioè l'uomo libero vedete al nominativo di di intelletto di animo e di azione con la mano nel senso con con la mano nella nella sua attività fisica anche fisica quindi nell'azione che può essere politica ma non solo astratta non solo intellettuale chi era cremuzio coro questo innanzitutto questo epiteto questa definizione gli venne data da seneca nella consolazione a marcia poi qui sotto consolatio ad marchia cremuzio cordo è stato ricordato sia da seneca che da tacito innanzitutto chi era questo cremuzio cordo era un senatore un senatore che visse in epoca tiberiana e venne poi condannato al suicidio quindi a morte proprio da tiberio tiberio che era anche si sospettava si riteneva sempre prima della sua scesa al trono una scesa non desiderata per lo meno non in prima né in seconda e probabilmente neanche in terza battuta da dal patrigno da augusto taviano si sospettava che lui avesse simpatie repubblicane però come per tutti i politici al di là delle sue simpatie non è possibile cambiare diciamo rivoluzionare qualcosa soprattutto se tu non sei una persona geniale creativa rivoluzionaria uno stato tende ad andare avanti da sé e la stragrande maggioranza dei politici si adegua ma non è una cosa negativa perché le rivoluzioni costano tanto denaro ma anche tanto sangue spesso quindi non è necessariamente negativo questo comunque tiberio da repubblicano sotto l'influsso di vabbè seiano questa cosa si sa ok ma anche il fatto che quando un politico è in al vertice è in sella non molla non molla il cavallo perché ci sono molti motivi per non mollare il cavallo ovviamente stiamo parlando di una situazione non democratica quindi non c'è una scadenza stiamo parlando anche di situazioni dove il politico che risulta sconfitto fa anche una finaccia fisica non solo politica non solo quindi le sue idee non solo quello che costruisce o contribuisce a mantenere se non altro benissimo perché dico questo tiberio repubblicano che manda a morte un altro repubblicano per questo motivo cremuzio cordo fu mandato a morte lui scrisse una storia purtroppo andata perduta nonostante che fosse già stata distrutta al tempo di tiberio tuttavia fu poi ripubblicata negli anni fu salvata evidentemente ripubblicata negli anni seguenti ma come vi ho detto diverse volte sarebbe sempre il caso di riparlarne anche in maniera sempre più approfondita purtroppo una gran parte del patrimonio librario per non parlare di quello archivistico tutto praticamente quasi tutto quello archivistico ma buona parte del patrimonio librario andò perduto decine di migliaia di biblioteche e librerie pubbliche e private voi pensate a allora innanzitutto la società romana era una società altamente alfabetizzata e possiamo dire anche più della nostra perché dico questo se qualcuno di voi ha mai letto i graffiti di Pompei che ci sono rimasti ma in realtà i graffiti non sono solo Pompei o Orcolano per l'eruzione che ha fissato in una certa data quello che c'era in quella città ad agosto del 79 dopo Cristo in realtà sono stati trovati dei graffiti anche in altri luoghi in particolare a Roma però mantenendoci a Pompei che sono quelli più classici c'è un libro in particolare che io vi consiglio io possiedo che si chiama graffiti latini in cui vengono appunto c'è una selezione significativa di questi graffiti è un libro che è stato curato se non ricordo male da Luca Canali che è stato un insigne latinista e Guglielmo Cavallo che è un paleografo in particolare di grafia greca ma studioso della grecità in generale spero che sia vivo ma dovrebbe essere vecchissimo ultranovantenne io segui i corsi in rete quelli di Uninet 1 di Guglielmo Cavallo a proposito della codicologia allora dicevamo Cremuzio Cordo un repubblicano un repubblicano mandato a morte dal senato sotto impulso di Tiberio per l'esa maestà è anche imputato da dei senatori ovviamente da servi perché ci sono sempre i servi del potere e vi dicevo anche che il politico quando è in sella non molla perché ha diversi motivi pensate all'esempio di Diocleziano che arriva quasi 300 anni dopo rispetto a Tiberio lui ha lasciato un caso molto unico non raro ma unico i motivi sono stati sempre al vaglio degli studiosi ma possiamo dire almeno secondo me che molti dicono perché già aveva sentito scricchiolare l'edificio secondo l'attanzio uno storico ecclesiastico perché il suo Cesare cioè il suo vice diciamo Galerio lo aveva minacciato che doveva mollare tutto così almeno lui Galerio sarebbe andato a fare l'Augusto può darsi può darsi che sia così ma può darsi anche visto il carattere che ha dimostrato Diocleziano che lui volesse quasi mettere alla prova la sua creatura senza contare che comunque fare l'imperatore era molto stancante non era vecchissimo Diocleziano aveva una sessantina d'anni quando lasciò però una vita intera passata a girare in lungo e largo per l'impero a svolgere varie attività sicuramente segna soprattutto poi considerate che non è che ci fossero aerei ci fossero treni ad alta velocità o automobili comode limousine eccetera erano si andava in giro a cavallo poi quando fu imperatore magari in carrozza più comoda ma una scomodità c'era sempre poi sempre con il rischio di essere ammazzati perché soprattutto nel terzo secolo il rischio era parecchio rilevante cremuzio cordo il nostro personaggio faceva parte di quei pochi senatori che ancora si ritenevano repubblicani dopo Augusto che aveva riformato il senato rimpinguato il senato possiamo immaginare che ce ne fossero rimasti abbastanza pochi le grandi famiglie erano scomparse caddero quasi tutte a Filippi ma anche prima ci furono vari eccidi durante le guerre molto precedenti tra Gaio Mario e Silla poi quelle tra Pompeo e Cesare infine quelle tra appunto tra Ottaviano e Antonio contro Cassio e Bruto e poi tra Ottaviano e Antonio i repubblicani andarono sempre dalla parte sbagliata alla fine si misero quei pochi che erano rimasti un certo Eno Barbo aveva una flotta un repubblicano di ferro andò da Antonio nonostante che Antonio nella storiografia nella propaganda poi a Ustea passò e probabilmente lo era come quello infatuato della regina orientale che avrebbe imposto delle tradizioni strane però evidentemente questi pochi repubblicani vedevano un grosso pericolo e non lo vedevano non si ingannavano vedendolo nelle mani vedendo il potere nelle mani di Ottaviano e questo ha significato tante perdite e tanti caduti che furono poi rimpinguati con uomini fedeli che ovviamente avevano interesse a sostenere il regime qualcuno era rimasto poi possiamo anche sospettare che dato l'ambiente dato le rimembranze storiche poi erano recentissime all'epoca anche alcuni di questi nuovi di questi uomini nuovi per lo meno i loro figli i loro nipoti sentissero il richiamo del repubblicanesimo e si volgessero quindi contro quello che era stato diciamo il passato che aveva fatto la fortuna della loro famiglia posso immaginare che almeno per qualcuno fosse sarà andata così però dicevo prima accennavo e concludo subito quel discorso sull'alfabetizzazione evidentemente se c'era gente che scriveva i graffi non voglio lasciarlo in sospeso scrivevano tanti graffiti perché sapevano scrivere e ho detto anche che erano più colti di noi perché la gente che fa i graffiti oggi a parte che sono quasi tutti disegni poche scritte orribili senza capo né coda quasi leggibili a volte ma se voi andate a vedere i graffiti che quella volta erano veramente graffiti graffiti significa graffiare il muro e segnarlo quella volta erano veramente graffiti oggi si usano le bombolette no? non sono veri graffiti sono dipinti anche le lettere e noi troviamo che c'erano parecchi versi che noi riconosciamo di Virgilio ad esempio di altri a volte vediamo dei versi quindi poesia ma anche delle prose fatte molto bene però vediamo dei versi che noi non abbiamo perlomeno nel patrimonio poetico che è stato tramandato quindi le cose sono due o quel verso è stato preso da un'opera che a noi è del tutto ignota o se l'è inventata e quindi era un poeta in erba ma in entrambi i casi abbiamo se nel secondo caso che se l'è inventata vuol dire che la poesia e quindi la cultura era penetrata anche in in questi personaggi di rango piuttosto basso oppure possiamo pensare che una poesia che è andata perduta e che quindi non doveva essere poi così perché le cose diciamo più importanti ci sono state tramandate quelle che hanno avuto meno successo no ci sono mille motivi per cui alcune cose hanno avuto successo e altre no però è un fatto e quindi questo sta a significare che quella persona che ha scritto un verso anche non suo ma ripreso da una poesia che per noi è ignota di autore ignoto aveva un'alfabetizzazione che lo portava a conoscere un'opera non famosissima non un Virgilio non un Omero non che ne so un Orazio un Catullo eccetera perché magari è facile che uno sarebbe comunque un esercizio di cultura a mettere un verso di Virgilio io sfido quanti di voi ma anche io stesso anche me stesso adesso così a caso a tirar fuori un verso di Virgilio ma possiamo dire anche di Dante se vogliamo qualcosa di più recente in italiano anche se non del tutto diciamo non moderno sicuramente vi sfido ad estrapolare un verso per adattarlo ad un evento di vita ecco quindi una società estremamente alfabetizzata un altro segnale che fosse alfabetizzata ci viene dato dal fatto che c'erano le epigrafi scrivere sopra significa sopra che la pietra sottinteso e se ci sono tante epigrafi ne abbiamo più di 300.000 significa che ce ne erano milioni poi sono andate distrutte perdute ogni tanto se ne trova qualcuna nuova significa che la gente cioè se le mettevano vuol dire vuol dire che la gente era capace di leggere se no voi mettereste qualcosa di scritto così che poi non leggerebbe nessuno già intanto significa che voi che la scrivete sapete scrivere ed è molto se voi pensate che nel medioevo ovviamente epigrafi ma assolutamente no zero assoluto ma anche documenti non ce ne sono gli unici documenti nei secoli bui quelli dell'alto medioevo non li abbiamo nemmeno per la gente ricca che dovrebbe essere quella più colta in teoria li abbiamo solo per gli ecclesiastici spesso erano ignoranti anche gli ecclesiastici perlomeno quelli di rango più basso una società estremamente alfabetizzata quindi la circolazione dei testi delle idee ogni città aveva almeno una biblioteca municipale quelle più grandi avevano delle biblioteche pubbliche imperiali ma soprattutto tantissimi privati avevano le biblioteche private alcune erano enormi più grandi di quelle pubbliche perché erano i ricchi che li avevano però spesso loro aprivano le loro biblioteche che erano anche archivi di documentazione di lettere eccetera pensiamo ad Attico o comunque a tutti gli studi che ha fatto Cicerone lui ce ne parla nel suo epistolario che andava da questo da quell'altro che gli aprivano i loro archivi per fare i suoi studi filosofici storici eccetera politici ma anche quella cosiddetta classe media e anche la classe più bassa aveva dei libri era un anche uno status symbol un po' come oggi no? avere infatti mi sembra di ricordare che se non ricordo male forse Petronio arbitro o marziale forse era marziale adesso non mi ricordo esattamente chi insomma faceva del sarcasmo su quei personaggi arricchiti soprattutto liberti che si riempivano la casa di testi di volumina cioè papiri i rotoli di papiro per mostrarli ai propri ospiti darsi un che di persona colta ma in realtà lasciandoli sempre lì ad ammuffire a prendere polvere non leggendoli quindi lo spirito umano alla fine è sempre lo stesso possiamo dire non cambia mai cambiano le tecnologie cambiano magari i paradigmi di riferimento ma e questa è più o meno la situazione in cui si trovò a vivere Cremuzio Cordo quindi nell'epoca d'oro l'epoca augstea e poi subito quella successiva tiberiana qui abbiamo il il testo in latino di Seneca dove ci parla della della vicenda in poche righe di Cremuzio Cordo ora adesso io ve lo leggo in italiano e poi semmai qualche pezzetto ve lo ho anche il latino giusto per farvi capire come fosse il latino classico non quello ecclesiastico quello che ogni tanto sentite in televisione che sbagliano tutti e sbagliano anche perché magari anche chi lo sa ha paura che dicendo correttamente viene preso per ignorante e quindi fa bene anche questo io ho una serie di video in cui presento famiglia romana che è un testo ovviamente totalmente in latino per l'auto apprendimento che utilizza il metodo naturale di assimilazione e lì se lo volete andare a vedere leggo diversi brani sono arrivato alla dodicesima lezione però mi sono un po' fermato devo anche tradurre altrettutto la dodicesima quindi ci sarebbe da fare però adesso ho questo problema con la scheda SD e poi ho altri video già pronti comunque andiamo a leggere che cosa ci dice Seneca di questo signore Cremuzio Cordo appena in vero il cambiamento dei tempi te ne offri l'occasione hai messo a disposizione della gente l'intelletto di tuo padre che era stato condannato a morte l'hai sottratto dalla vera morte l'hai restituito alla pubblica memoria i libri che quel valoroso ed eroico uomo aveva scritto con il suo santo quindi sta parlando del figlio hai reso un grandissimo servigio in pratica sta dicendo quei libri che io vi ho accennato della storia che aveva scritto Cremuzio Cordo che era stata bruciata poi arriveremo al punto perché era stata bruciata lui aveva definito Cassio in particolare uno dei due cesaricidi cioè dei due erano stati parecchi senatori però uno dei due più importanti l'altro era brutto come l'ultimo dei romani e quindi esaltandolo secondo l'accusa macchiandosi di lesa maestà pensate un repubblicano che si sente accusato di lesa maestà un reato che non dovrebbe esistere hai reso un grandissimo servigio alla cultura romana gran parte di quei libri era stata bruciata appunto l'opera dopo la sua morte ai posteri ai quali giungerà fedele purtroppo non c'è giunta la realtà dei fatti ha scritto al loro grande autore a lui stesso di cui è vivo e vivrà il ricordo finché sarà apprezzata la conoscenza della storia romana finché qualcuno vorrà sapere cosa sia un romano cosa sia un uomo rimasto indomito quando ormai le teste di tutti erano già piegate e costrette sotto il gioco di Seiano cosa sia un uomo libero di intelletto di animo e di azione appunto quid sit homo ingenio animo manu liber ut vero aliquam occasionem mutatio temporum dedit ingenium patris tui de quo sumptum erat supplicium in usum hominum reduxisti et au era illum vindicasti morte act restituisti in pubblica monumenta libros quos wir il fortissimus sanguine suo scrip serat e poi prosegue questo è Tiberi in una statua giovanile e poi ne parla anche Tacito negli annali annales quarto libro paragrafo 34 35 nel 25 dopo Cristo il principato di Tiberio processo della morte di Cremuzio Cordo nel 25 quindi Tiberio governò fino al 37 e assunse il potere nel 14 dopo Cristo Cornelio Cosso Asinio Agrippa Consulibus Cremutius Cordus Postulatur Novo Actung Primum Audito Crimine in pratica durante il consolato Consulibus quindi nel consolato mentre erano consoli questi due signori qui Cornelio Cosso e Asinio Agrippa che davano forse non sapete o chi lo sa buon per lui i consoli davano il nome all'anno i consoli ordinari quelli che entravano in carica il primo gennaio spesso era l'imperatore in epoca imperiale poi c'erano i consoli suffetti ossia sostituti che erano di rango un po' più basso e non davano il nome all'anno quello più prestigioso era il consolato ordinario e questo valeva anche in epoca imperiale si continuarono a nominare consoli anche perfino dopo la caduta dell'impero romano Teodorico ad esempio il re dei Goti continuò a nominare un console e un altro console veniva nominato a Costantinopoli poi questa questa diarchia venne intesa in questa maniera innovativa diciamo così per cui uno dei consoli doveva essere oramai totalmente privati di qualsiasi tipo di potere se non meramente così formale anzi era più una spesa che l'impresa essere consoli infatti alla fine non lo voleva fare più nessuno tant'è che in seguito venne assunto da Giustiniano e non abolito attenzione si dice spesso che il consolato fu abolito da Giustiniano ma non è così semplicemente da Giustiniano in poi fu sempre l'imperatore ogni anno ad assumere il consolato e voi capite che in questo modo saltava completamente la possibilità di contare gli anni di avere una cronologia e da quel momento in poi infatti si utilizzano preferibilmente le indizioni le indizioni sono adesso è un discorso lungo non posso allargarmi a parlare di tutto erano delle misure diciamo fiscali che venivano veniva fatto in tutto l'impero ogni terreno veniva conteggiato sulla sua redditività su quanti operai contadini insomma quanta gente ci lavorava sopra quanto fosse fertile quindi quanto avrebbe dovuto dare al fisco si facevano questi conti e ogni indizione al inizio si faceva ogni 15 anni ogni 5 anni chiedo scusa poi ogni 15 ma a settembre si doveva ripagare si doveva ripagare le tasse ovviamente ogni anno sulla base dell'indizione del calcolo oggi lo chiameremo budget del bilancio che era stato fatto durante l'indizione stessa non siamo molto bene a conoscenza poi successivamente questo fu introdotto da Diocreziano questa pardella qui ma sappiamo che andò avanti molto anche in epoca medievale bizantina però non sappiamo bene poi i bizantini come se la giustrarono perché un conto era farlo con la burocrazia del basso impero romano diverso farlo dopo le invasioni arabe dopo la grande riforma tematica tutte altre cose comunque adesso parte quello da quel momento in poi si iniziò a contare sulle indizioni voi direte come si fa allora si considerava si parlava di indizione anche ogni singolo anno del ciclo dei 15 quindi la settima indizione del del ciclo x però siccome non c'era un punto non c'era il ciclo x non era conteggiato non è semplice calcolare gli anni in questa maniera qui però adesso questo parliamo di secoli molto più avanti volevo dire solo del consolato che fu abolito solamente al tempo di leone il saggio quindi parliamo della fine del nono secolo fine nono secolo inizio inizio perché mi sembra che sia morto nel 913 se non sbaglio però non mi ricordo assolutamente l'anno in cui abolì definitivamente il consolato che aveva anche un altro nome mi sembra Ipatios cioè in greco però vabbè questo adesso non non conta dicevo Cremuzio Cordo fu accusato di un crimine mai udito prima perché aveva lodato Marco Bruto e Cassio come l'ultimo dei Romani lo accusavano un certo Satrius Satrius II e Pinario Natta che erano clienti di Seiano ed erano anche senatori questo Pinario mi dà da pensare per due motivi però adesso c'entra relativamente con il nostro Cremuzio perché mi dà da pensare innanzitutto vabbè la parte meno storica è il nome Natta e Natta è un nome di un politico mi sembra socialista degli anni 60 70 andatevelo a vedere e quindi vedete che insomma qualche nome si è mantenuto nel corso dei secoli dei millenni oltretutto questa Natta è proprio un cognome mi piacerebbe capire che cosa significasse all'epoca perché il cognomina i cognomina erano spesso una caratteristica o che si tramandavano fisica oppure di che ne so caratteriale di lavoro che a volte per i discendenti neanche aveva più senso però vabbè comunque Natta l'altro aspetto che mi fa pensare è il Pinarius che questo invece è un gentilizio ma Pinarius Pinario era anche uno dei degli eredi di Cesare anche questa è una cosa poco nota perché si pensa che l'erede di Cesare fosse Ottaviano punto e basta non è così vabbè poi si sappiamo c'erano i secondi eredi cioè quelli che avevano diciamo i legati si chiamavano tra cui anche lo stesso brutto eccolo lì uno dei cesaricidi che per anni si è postulato comunque si è ipotizzato che potesse essere il figlio perché in età giovanile Cesare era l'amante della madre vabbè lasciamo perdere questo discorso comunque tra i legati cioè gli eredi secondari c'erano brutto c'erano vari personaggi ma gli eredi principali quelli che si presero il malloppo diciamo grosso erano sì Ottaviano che prese i tre quarti ma poi il rimanente quarto doveva essere suddiviso tra altri due nipoti più anziani di Ottaviano era giovanissima era diciannovenne uno era Quintopedio che morì poco dopo la morte di Cicerone mi sembra nel 42 Cicerone è morto a dicembre del 43 avanti di Cristo e Quintopedio fu un po' un pigmalione aveva più di 40 anni era un tipo molto tranquillo però era anche zio di Ottaviano per Pinario abbiamo meno notizie salvo il fatto che non si occupò Cesare dell'educazione di questo nipote quindi è un po' incerto su di chi fosse figlio forse era un fratello un fratellastro di Pedio non lo so non si sa però poi troviamo un Pinario non è lo stesso sicuramente perché era morto si pensa che fosse lo stesso Pinario quello l'erede di Cicer che era andato da Antonio e faceva il governatore della Cirena e camisù della Tripolitania comunque nella zona vicino all'Egitto poi se la se la cavò perché si arrese subito ad Ottaviano e mise anche moneta nel mentre che era governatore con la sua faccia avevano una grande libertà i governatori ancora in questa epoca e quindi forse questo era il figlio boh non lo so però il nome è lo stesso pure un liberto che ha assunto lo stesso gentilizio sicuro comunque questi due lo avevano accusato andiamo a leggere in italiano che facciamo prima nell'anno del consolato di Cornelio Cosso e di Asinio Agrippa venne sottoposto a processo Cremuzio Cordo con un'imputazione nuova inaudita nei suoi annali appena pubblicati cioè gli annali non quelli di Tacito che leggiamo qui ma quelli l'opera storica di Cremuzio ha tessuto l'elogio di Marco Bruto chiamato Gaio Cassio l'ultimo dei Romani